Un evento di solidarietà e di inclusione sociale denominato il Natale per Tutti e quello che ha organizzato la Guardia di Finanza di Pescara nell'hangar del reparto operativo aeronavale della sezione aerea. È una magnifica attività messa in campo dal Roan e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il comandante del Roan, il colonnello Vaporieri, ha di cuore voluto invitare i bimbi dell'oncoematologia pediatrica dell'Agbe e quindi siamo qui presenti proprio per poter donare un sorriso in più ai nostri bimbi essenzialmente. Abbiamo organizzato, perché è tipica del corpo, della componente aerea del corpo che si organizza in tutti i reparti aerei d'Italia sotto Natale durante il periodo natalizio, questa cerimonia aggregativa non è solamente per il corpo ma la diamo anche ad uso di associazioni caritatevoli che ci sono nella zona. È un momento difficile per il paese ma è un momento in cui bisogna credere nello sviluppo e lo si deve fare attraverso il rispetto delle regole. È il messaggio che cerchiamo di trasmettere anche oggi approfittando di questo evento, quello natalizio, che avvicina tutti e ci dà la possibilità di riflettere. Lei c'ha dei bambini? Io sì, ho due bambini, due piccolini insomma che hanno sei anni e cinque anni. Lei si veste a bambino Natale o c'ha qualcuno in casa che lo fa? C'ho qualcuno in casa che lo fa, il nonno certe volte. Adesso gliel'ha detto, vedono l'intervista i bambini, l'hanno scoperto? L'hanno scoperto sì, l'hanno scoperto. L'hanno già scoperto? Vabbè, come no.